Ciao a tutti, io sono Matteo e parlo lombardo, anzi per precisiù il dialetto Bressà della lingua lombarda che la si parla con i suoi vari dialetti in tutta la regione Lombardia in Italia e dal sud della Svissera, in quale tocchè il del Piemonte orientale e del Trenti occidentale. Sto che lombardo è riconosciuto dall'UNESCO, dall'ISO e dalla maggior parte dei linguisti, come quasi tutte le lingue regionali italiane le abbiamo considerate un dialetto dell'Italia, il mio ufficiale, non l'Italia e non la Svissera. Questo è un bel problema perché la leggenda delle lingue è considerata un pericolo di estinzione. Personalmente ho già la coscienza di che lombardo è la lingua e il mio dialetto quando vivi a Valencia, dove si parla la varia locale del català e ho una coscienza un bel top più forte delle lingue regionali minoritari di che le cagano in Italia. Lei propendendo un progetto di sensibilizzazione sul tema delle lingue minoritarie, io ho accattato la mia lingua e io ho inviato a studiare ad Ré e adesso vedete anche l'associazione Fallon Bart che l'apprò a tenere viva la lingua e ad aggare un'ortografia comunale, sempre però col conservare e parlare dei locai senza uniformale. L'esperienza dei Valenciani, da che il spagnolo e il català è un ufficiale dei due, la madre vittà l'eccendente sull'importanza e i vantaggi del bilinguismo e adesso che so direi a vivere in Ecuador, in Sud America, so direi a capire di più la richiesta grande che come in Europa, con la diversità linguistica incredibile che è. E penso che proprio al dedo anche, la tutela delle lingue piccine e delle culture locai, la sapesse importante come mai le strade nella storia dell'uomo. In un mondo che tenta standardizzare e omologare, penso che la maniera più bella per dirvi se le altre culture è quella di mia perdere la tua, ma anzi di capire la consapevolezza e di condividere con il mondo, perché il progresso della storia è sempre rinascito dalla diversità e dal contatto tra culture diverse e mia dall'omologazione, perché la mia speranza è che la Lombard e tutte le lingue minoritarie e regionali d'Europa, le vengono a sperare dalla condizione di inferiorità che gli ha chiesto e le diventate suffici e nelle sue regioni che gli ha parlato e mi è successa bella per vergogna come il català, il galese, il sardagno e io tremo. Dunque questa è la mia speranza.